I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di Prevenzione e di Sequestro di Bene per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore di Rosarno, ritenuto vicino alla cosca di Indrangheta che fa capo alla famiglia Pesce. L'uomo risulta essere esponente di spicco in questa consorteria ed inserito nel tessuto criminale rosarnese già a partire dagli anni Ottanta, posizione evidenziata prima dall'operazione Faust eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria a gennaio del 2021 che ha permesso di acclarare l'esistenza di una fiorente attività di narcotraffico che dal porto di Gioia Tauro si dipanava attraverso le articolazioni criminali federate in Campania, Puglia, Basilicata e Lombardia e il rimpiego del denaro proveniente dal narcotraffico in attività usuraie e l'appoggio elettorale fornito alla cosca Pisano ad alcuni politici di Rosarno e poi dall'operazione Hanover Pecunia Olet, eseguita nell'aprile del 2021 dalla Guardia di Finanza e dal Rosso dei Carabinieri di Reggio Calabria nei confronti della cosca Pesce di Rosarno, che ha permesso di svelare l'esistenza di un vero e proprio accordo che avrebbe consentito alla consorteria di gestire, in condizioni di monopolio, i remunerativi settori dell'indotto della grande distribuzione alimentare e del trasporto merci su gomba. In quest'ultimo ambito, l'imprenditore oggetto del sequestro avrebbe ideato e attuato un sistema di interazione fitizze volto a nascondere il suo ruolo e i beni illecitamente accumulati. Il provvedimento di sequestro ha interessato l'intero compendio aziendale di una cooperativa agricola, formalmente intestata prestanome, comprensivo di due terreni, di un immobile adibito ad uso commerciale industriale, quattro fabbricati e ubicati tra Rosarno e Tropea, un'autovettura, nonché tutti i rapporti bancari finanziari e relative disponibilità per un valore complessivamente stimato in circa 7 milioni di euro.